Sono davvero felice e onorato e anche un po' emozionato di dare il benvenuto al primo ministro Shinzo Abe a tutta la sua delegazione delle autorità giapponesi in questo meraviglioso luogo che è il Salone dei Cinquecento nella mia città, Firenze, nel nostro Paese. Grazie Shinzo per aver accolto il mio invito e il nostro invito. Questo è il Salone che ospitava i grandi incontri della città di Firenze. Lo ha fatto nell'epoca del Rinascimento, lo ha fatto nel ventesimo secolo e oggi la presenza del primo ministro di un grande Paese come il Giappone, di un Paese amico, di un Paese alleato, di un Paese che ha scritto la storia e che scriverà il futuro, rende, credo, tutti i fiorentini e gli italiani orgogliosi del fatto che il Salone dei Cinquecento, dove hanno lavorato Leonardo da Vinci e Michelangelo, dove si sono succeduti i capolavori della storia dell'arte, ospiti una delegazione così importante. Buongiorno 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 in questo tipo di secolo, ci sono state ovdue, che non è in seguito di rinessanus, ma tutti le città ne fa tutti i eventi e pari che ciumi ci halle, ma anche vuole il livello della tradizione del periodo svetla. L'ocqe di donna è Marco, ma anche più dico di farò di allora, quindi il��ino, noi ci siamo in tutti i miei sensori del presso, lo stiamo, ma anche la comunità del periodo generale, in cui mi credo sia molto bello. Qui ci sono i suoi uomini di prima volta che gli uomini di Leonardo da Vinci e Michelangelo hanno trovato diverse persone che hanno trovato una storia. Il Giappone ospiterà tra meno di un mese l'importante appuntamento del G7 in un momento di grande Grande, grande, grande importanza e io conto molto sulla leadership di Shinzo Abe per la buona riuscita del G7, in particolar modo sui temi della crescita economica. E' come la buona riuscita del G7, in particolar modo sui come se non ha un tipo di riuscita del G7, in particolar modo sui temi di fare, Non è mai stato un momento così utile e opportuno alla Presidenza giapponese, perché nello scenario internazionale americano e europeo abbiamo una necessità straordinaria di cogliere l'occasione che verrà dal G7 giapponese. Dunque, davvero dal profondo del cuore, in bocca al lupo, caro Shinzo, per la vostra Presidenza, noi saremo in prima linea al vostro fianco perché l'evento di maggio possa essere un successo. Grazie. 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 una tema che è stata rosa. La vita è stata di questo, la chiesa di questo, la nostra città di Fiorence, e alla parte del mondo, la cultura di sé che si è stato di rinco. Oggi, oggi, l'anno è stata di rinco e l'Italia, e la città della costa di rinco. E la città della costa di rinco, e la città della costa di rinco. Il rinco è stata di rinco e l'euro, e la città della costa di rinco e la costa della costa di rinco. E allora, caro Shinzo, grazie di nuovo per la tua presenza qua. Questa è una settimana molto importante per la politica estera in Italia. Tra qualche giorno verranno in Italia i principali esponenti delle istituzioni europee, a cominciare dal Presidente Juncker, dal Presidente Tusk, dal Presidente Schulz per gli incontri europei, li riceveremo a Roma. Verrà la Cancelliera Merkel per discutere insieme della fase che stiamo vivendo a livello europeo. Sarà giovedì a pranzo a Palazzo Chigi. Oggi abbiamo avuto la straordinaria notizia dal Tribunale internazionale. Ho parlato qualche istante fa con il nostro Marò Salvatore Girone, che potrà rientrare in Italia in attesa delle decisioni del Tribunale internazionale. Un passo in avanti davvero significativo, al quale abbiamo lavorato con grande dedizione e determinazione. Approfittiamo per lanciare un messaggio di amicizia e di volontà di collaborazione insieme al grande popolo indiano, al Primo Ministro Modi. Noi siamo sempre pronti a collaborare e a lavorare insieme. Bene, è una settimana dunque che sarà caratterizzata da tanti eventi di politica estera. Questi eventi di politica estera si aprono simbolicamente con la presenza del Primo Ministro del Giappone e Presidente del G7 per il 2016. Noi vogliamo, insieme ai nostri amici giapponesi, dare un messaggio che la politica mondiale è in grado di orientare la crescita, di investire sul futuro e lo facciamo, grati al Sindaco Nardella e a tutte le realtà istituzionali. Da questa città di cui tante volte ho parlato al Primo Ministro Abe, tante volte ti ho persino dato noia, Shinzo, a parlare della bellezza di Firenze, oggi sono felice di poterti offrire insieme alle nostre mogli un piccolo momento di pranzo nella sala degli elementi e poi cammineremo insieme nel corridoio vasariano, entreremo agli uffizi, alla galleria degli uffizi, cammineremo insieme con la delegazione al corridoio vasariano, usciremo a Palazzo Pitti. Segno evidente che i nostri Paesi non hanno soltanto in comune la volontà di partnership economica, ma anche la cooperazione culturale. In questo momento in cui l'Italia sta investendo tanto sulla politica estera, la tua presenza per noi è davvero elemento di grande gioia. Grazie dunque, arigato e benvenuta a tutta la delegazione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 のイベントが待っている非常に この密度の高い州でもあるわけ です 今週はユンケル議長そしてまた トゥスク議長ショルツ議長またドイツ からはメルケル首相をお迎えする ことになっておりまた木曜日には 基地宮殿の方で昼食会が予定を されております それからまた国際司法裁判所から ma signorizare l'Italia, di rielo. Questo è una versione del giro ne, che è stato l'Italia, che si è stato portato di rielo, l'Italia, che si è stato portato con l'Italia, con l'Italia, che si è stato portato con l'Italia, che va a costrigne in questo modo che mi credo è molto molto buon anno. Quattro oggi è il fatto che oggi nel G7 del Sami di partita del al per il cibo di partita, che è il fatto che l'evento di partita per la sua parte di partita di partita l'Italia側とのミーティングが行われました それによりまして将来的な世界経済 の成長のみならずこの世界全体 の将来ということについてもこれは 安倍首相とこれまで何度もこの 話をそしてまた心臓と呼びかけながら 話をしてくるそういったテーマ にもなっているわけです 従いまして我々の両国の関係という のはただ単なる経済交流など 必ずフィレンツを中心としたこの 文化交流にも基づいております この文化交流ということにちなみ ましてはこの後我々の妻らととも にこの昼食をとった後バザーリー の回廊を通りましてウフィッツィ 美術館へ皆様方をお連れしたく 思っておりその後はさらに回廊 を通りましてピッティ宮殿の方 で皆様方にお別れをするそういった 予定になっております 日本イタリア国交150年の今年に マッテオの地元である美しいそして イタリアの魅力的な文化と歴史 があふれたディフェンツェで首脳会談を 行われたことは私の喜びとするところであります そしてまた先ほどはマッテオに 案内をしていただきました 世界で最も美しい伝統のある 市長室も拝見させていただきました そしてイタリアの皆様の んでも身の喜びを歌うのおたたたかいい感じに 私の喜びを申し上げたいと 申し上げます 私は非常に幸福に教えている き方で平径が日本で、作品の富士に なければ皆さんに Bye 天国の経験を選ばれる vedere l'ufficio comunale che ha più storia al mondo. Voglio qui ringraziare i fiorentini e gli italiani per tutto il calore con cui sono stato accolto. Ormai ci stiamo approssimando al summit del G7 che avrà l'onore di presiedere a fine mese a Iseshima. In questo senso desidero veramente lavorare a stretto contatto con Matteo che rappresenta l'Italia che l'anno prossimo presiderà il G7. Lavorare per il successo di questo vertice. Il G7, noi paesi del G7 che siamo accomunati dalla condivisione di valori universali, quelli della libertà, la democrazia, i diritti umani e il rispetto della legalità. Ecco, noi dovremmo discutere dei problemi mondiali con una prospettiva strategica. Soprattutto sui temi principali, i temi dell'economia mondiale, la lotta al terrorismo, la risposta alle crisi migratorie. Ecco, il G7 deve mostrare coesione e inviare un forte messaggio al mondo. Queste sono le posizioni che ho riferito oggi a Matteo. Ho incontrato il suo forte sostegno e in questo senso è stato un colloquio veramente molto significativo. Grazie a tutti. In questo colloquio io e Matteo abbiamo condiviso la consapevolezza che dai paesi del G7 ci si aspetta un'accelerazione delle riforme strutturali che sia accompagnata da una mobilitazione di politiche fiscali flessibili. Questo affinché si possa superare la congiuntura attuale, si possa permettere di evitare di ricadere in crisi future e si possa stimolare naturalmente la ripresa economica mondiale. Ci siamo trovati d'accordo che al summit di S-Shima nel G7, il summit del G7 dovrebbe inviare un messaggio forte in questo senso. Con Matteo abbiamo anche celebrato insieme il centocinquantissimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i nostri due paesi. Quest'anno è un'occasione particolare per rafforzare ulteriormente, insieme con la collaborazione di Matteo, i legami che uniscono i nostri paesi in tanti settori, dalla politica alla sicurezza, dall'economia alla cultura. In occasione di questo anniversario, proprio nella seconda decada di questo mese, le loro altezze imperiali, il principe Akishinomiya e il consorte, e verranno in visita ufficiale in Italia. Il Giappone e l'Italia stanno lavorando insieme proprio per dare grande entusiasmo a questa celebrazione dei centocinquant'anni. Concludo ringraziando nuovamente Matteo e la gentile signora per avermi invitato qui a Firenze, la città del fiore, la città che è la culla della civiltà del rinascimento. iosi. Il Giappone e l'Italia mostrando le bellezze naturali, la cultura e le tradizioni del mio Paese. A questo G7 desidero lavorare veramente in stretto contatto con l'Italia che presiderà il G7 l'anno successivo. Sono comunque veramente impaziente di poter accogliere Matteo e Signora a Isescima. Grazie.